segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te bene allora il famoso nodi draghi guido crosetto e poi peter gomez crosetto ci sente forse al telefono stiamo intercettando stiamo commettendo un reato faccio una intercettazione in diretta cosetto mia moglie stavo parlando con mia moglie vengono prima di chiunque altro l'alibi è perfetto mia moglie che mi chiedeva la password del computer perché i figli vogliono vedere un film non volevamo in diretta così faccio come gasparri non volevamo ma gliela ha data la password molto importante gliela ha data la password no non sono uscito adesso appena finisco di rispondere scrivo mi raccomando non peppa pig è comunque diceva giustamente prego crosetto no l'ho cambiata l'ho cambiata dopo aver sentito mollicone quella evviva crosetto